Ciao cari ticlo scimmiati, un saluto da Andreas il bulgaro, eccoci qui oggi per andare a vedere un telefono che non è proprio nuovissimo ma che dopo 12 mesi e un prezzo che ormai se è un po' ribassato ha ancora qualcosa da dire andiamo a vedere sempre la video recensione di Wiko Huawei Star 4G Eccoci qui, partiamo da quella che è la confezione vendita di questo Wiko Huawei Star 4G come sempre Wiko propone una confezione di vendita completa ed elegante che spesso non è una certezza neanche nei top gamma al suo interno troviamo la graffettina per i carrellini delle varie sim adattatori per ogni tipo di sim anche quelli che non servono per questo dispositivo un manuale utente che mai così spesso l'ho visto in uno smartphone ma è un classico per Wiko delle cuffie in ear di buona qualità, i bassi sono un po' bassi, scusate il gioco di parole però il volume è buono e non gracchiano e cosa buona è hanno il cavo piatto quindi anti ingorvogliamento non sto a ritirarle fuori in quanto è stato un parto rimetterle via adattatore a parete con uscita ad 1A comunque la batteria si carica abbastanza rapidamente e cavo micro usb per la ricarica e la confezione dei dati sempre con cavo piatto molto comodo perché non si ingorvoglia passando a quello che è il dispositivo questo misura 141 x 71.4 x 6.6 mm di spessore solo 123 i grammi del suo peso e quindi leggero e sottile scocca unibody in alluminio satinato forse un po' sottile a volte dà quasi la sensazione che non sia alluminio satinato ma sia plastica ma è alluminio molto solido bella la sensazione al tatto anche se essendo molto molto liscio se si hanno le mani un po' secche oppure fredde questo tende a fare una bella scivolata però bisogna fare quindi un po' di attenzione invece il pannello anteriore scusate è un gorilla glass 3 quindi è buona la solidità del pannello che copre il display nella parte posteriore troviamo una fotocamera da 5 megapixel con flash anche anteriore altoparlante di chiamata e led delle notifiche e i vari sensori di prossimità e luminosità quando ci sono tasti soft touch in quanto sono a video abbiamo nella parte destra il primo carrellino per la sim per la micro sim secondo carrellino per la micro sim oppure per la micro sd c'è questo trade off tra seconda sim ed espansione di memoria e il tasto accensione parte posteriore oltre al logo wiko abbiamo la fotocamera da 13 megapixel con fresh led e secondo microfono parte inferiore microfono di chiamata ingresso per la micro usb e altoparlante di sistema buona cosa che nella parte inferiore parte sinistra bilanciere del volume e parte superiore il jack da 3 e mezzo per le cuffie standard parlando di hardware al suo interno abbiamo un processore mediatek mt 6752 octa core da 1.5 gigahertz sono 8 processori cortex a 52 affiancati da un processore grafico mali t760 il tutto è affiancato da 2 gigabyte di ram 16 gigabyte di memoria interna che non sono espandibili se si vogliono usare due sim ma sono espandibili se si vuole utilizzare una sola sim per quanto riguarda la connettività come dice il nome è molto importante che c'è lte categoria 4 al suo interno quindi fino a 150 megabyte megabit in download se la rete italiana lo permette e quindi ottima cosa per questo device avere la connettività 4g a questo ovviamente wifi e bluetooth 4.0 la batteria al suo interno è una batteria da 2450 mAh parlando subito di quella che è la sua autonomia diciamo che con questa batteria soprattutto per la tecnologia di spec di cui andremo a parlare adesso e la sua diagonale permette di arrivare con un utilizzo normale fino a sera se si cerca di avere un utilizzo stress difficilmente si arriverà a fine sera però diciamo che nella giornata standard di solito ci accompagna fino a prima di andare a letto stavamo parlando del display il display è un amoled amoled da 5 pollici con risoluzione hd quindi 1280x720 pixel sembra quasi una cosa scontata ma ovviamente il display essendo un amoled ha dei neri che sono effettivamente dei neri degli ottimi contrasti e dei colori che sono un po' saturati e molto brillanti andiamo subito a vedere qualche immagine di test per valutare quello che è questo display amoled di questo wiko away star 4g vediamo che i neri sono effettivamente nerissimi anche nei vari angoli di visuale non virano mai sul grigio la griglia viene riprodotta molto bene e vediamo che i colori sono molto brillanti e un pochino saturati questo diciamo può essere un po' vediamo anche l'angolo di visuale quasi a 180 gradi quindi molto buono come display per quanto riguarda la visibilità sotto la luce del sole non è male il sensore di luminosità gestisce bene la luminosità del display anche se sotto luce forte diretta del sole a volte con questo amoled del wiko away star 4g si fa un po' fatica a leggere però non sempre è così dicevamo che i colori sono molto sparati molto saturati però diciamo che wiko viene incontro a questa caratteristica degli amoled con una personalizzazione intanto abbassiamo un attimo la luminosità per facilitare la visualizzazione in videocamera forse l'ho basata un pochino troppo viene incontro dicevamo con una possibilità di personalizzazione delle caratteristiche di gestione del colore con modalità standard modalità vivido oppure con modalità utente che permette di andare a gestire manualmente quelle che sono i bilanciamenti di contrasto, temperatura e quant'altro quindi avere una gestione personalizzata di quello che è l'effetto di colori e contrasto di questo display parlando di software all'interno di questo wiko away star 4g abbiamo android 5.1 ovviamente non è nato con questa versione software quando è stato presentato praticamente quasi un anno fa montava KitKat con i vari aggiornamenti e è arrivato ad android 5.1 dove la personalizzazione software non è all'interno del design delle impostazioni eccetera dal punto di vista stilistico è principalmente legato solo al launcher infatti troviamo un launcher proprietario con vediamo varie icone personalizzate la possibilità di andare ovviamente aggiungere widget modificare i wallpaper mettendo anche dei wallpaper che siano opacizzati e modificando quelli che sono gli effetti di scorrimento delle varie schermate oltre a questo possiamo anche andare a aggiungere e cancellare schermate facilmente e andare a impostare una schermata di home differente oltre a questo dal punto di vista stilistico wiko non mette più di tanto la mano infatti abbiamo visto prima che sia la struttura e il design della tendrina delle notifiche che delle impostazioni sono praticamente identiche a quelle che sono di lollipop come google l'ha pensato a questo però vengono aggiunte delle impostazioni aggiuntive come scusate ancora qui il gioco di parole però essendo un dual sim abbiamo una sezione per gestire le due sim a questo momento ne ho solo una però si può fare lo switch a caldo della rete dato utilizzata e poi si possono utilizzare le varie sim come predefinite per chiamate e messaggi oppure si possono disabilitare una o l'altra abbiamo visto che ci sono le impostazioni personalizzate per quanto riguarda il display per quanto riguarda il bilanciamento dei colori del display e anche l'attivazione di clear motion per quanto riguarda la gestione di quanto devono essere fluidi i video sfruttando il processore all'interno di questo dispositivo abbiamo anche delle preimpostazioni per quanto riguarda le modalità della suoneria e poi cosa diciamo principale aggiunta sono le smart gesture per esempio la possibilità di disattivare lo schermo con doppio tap sul tasto home e in questo modo vi mostro che è presente il doppio tap sul display per sbloccare lo schermo e riattivarlo poi ci sono varie e varie gesture che possono essere utili sì e no diciamo che non sono un grande amante di queste gesture c'è la presenza della sveglia intelligente per quanto riguarda lo schermo spento infatti si possono accedere a varie funzioni disegnando una lettera sullo schermo spento e quindi andando ad accedere ad un'applicazione senza dover neanche riattivare il display e per quanto riguarda le prestazioni software offerte da il processore Mediatek Octa-Core presente in questo Wiko Huawei Star 4G diciamo che non sono malaccio diciamo che un utilizzo standard è abbastanza fluido è abbastanza riattivo nel passaggio da un'applicazione ad un'altra senza grossi impuntamenti ovviamente se lo si vuole stressare nel senso lo si vuole utilizzare passando un'applicazione all'altra mentre per esempio si sta installando un'applicazione qui si nota qualche lacuna del processore in quanto si nota qualche piccolo lag nell'interfaccia e poi l'applicazione tenderà a un tempo indefinito per installarsi quindi richiederà veramente tantissimo tempo però diciamo che in un utilizzo normale per un dispositivo di fascia media questo Wiko Huawei Star 4G non si comporta affatto male per quanto riguarda sempre il software Wiko propone delle applicazioni preinstallate come per esempio la radio FM che è supportata da questo dispositivo la torcia il calendario che è leggermente diverso da quello stock di Android però ci sono alcune piccole cadute diciamo dal punto di vista stilistico e di sviluppo del software proprietario in quanto per esempio troviamo un'applicazione della musica che è penso la stessa che si poteva trovare su Android Eclair 2.1 essendo la versione 5.1 è praticamente imbarazzante vederla e sarebbe stato più carino da parte di Wiko evitare di mettere l'applicazione proprietaria e lasciare semplicemente Google Play Music come app unica per la musica preinstallata per me sarebbe stato più carino però scelte di sviluppo preinstallata anche la touchpal come tastiera di default iniziale su questo dispositivo non sono un grande amante di questa tastiera però si comporta abbastanza bene e Chrome come browser dato che stavamo parlando di questo parliamo subito di com'è l'esperienza di navigazione nel browser richiediamo la modalità desktop per provare a vedere come si comporta per esempio sul sito di Corriere che è abbastanza pesante sta ancora caricando e vediamo comunque la navigazione è molto fluida come anche il Pins to Zoom e anche il Pan lo scrolling è fluido e non c'è nessun tipo di impuntamento quindi esperienza di navigazione proviamo a entrare in un articolo esperienza di navigazione con Chrome molto buona ma il processore in questo caso riesce a gestire abbastanza bene quella che è tutte le informazioni che vengono scaricate dalla rete e riprodotte nel browser quindi dal punto di vista della navigazione web niente da dire questo device di Wiko si comporta egregiamente parlando della fotocamera l'app proprietaria propone un'interfaccia abbastanza abbastanza classica dove nella parte di sinistra troviamo la possibilità di fare switch tra fotocamera frontale e posteriore la gestione del flash le impostazioni e tutte le modalità di scatto tra panorama, professionale, HDR ecc switch passaggio rapido da scatto a registrazione quindi senza due modalità ma semplicemente si accede direttamente alla registrazione o si scatta direttamente e qua si accede a quelli che sono gli scatti effettuati grazie grazie a tutti durante la registrazione anche se durante la transizione si nota qualche piccolo scattino se ci si muove un po' velocemente però diciamo che per un device di fascia media si può anche accettare questo piccolo problema nella registrazione in full hd ritengo un problema un pochino più grande quello legato al troppo rumore nelle zone di ombra delle foto per quanto riguarda la parte multimediale quindi audio e video andiamo a vedere quella che è la riproduzione di un video in full hd facciamolo partire dall'inizio la qualità di riproduzione è ovviamente buona e la navigazione è abbastanza veloce non è proprio scattante in quanto vedete che c'è qualche qualche frazione di secondo a volte qualche secondo di attesa quando ci si muove rapidamente all'interno di un video nonostante questo qui sia un video abbastanza breve però diciamo che si riesce a gestire la cosa andiamo nella parte finale dove l'audio è più alto come avete potuto sentire l'audio di sistema è potente è molto alto come volume non gracchia e è decisamente abbastanza ricco per quanto riguarda la riproduzione di brani musicali a volte si è ricco però magari si sente un po' l'assenza di un filino di bassi però diciamo che è un device di fascia media anche i top gamma a volte scarseggiano in questo frangente e diciamo che nessuno effettivamente si mette a ascoltare la musica con chissà che pretesa con l'altoparlante del sistema di uno smartphone per quanto riguarda il reparto connettività e chiamate la recezione del wifi è buona la recezione del 4G e la connessione dati è ottima è presente la banda a 800 MHz nelle chiamate ci sentono bene e sentiamo abbastanza bene proviamo a fare una chiamata rapida al 190 per sentire anche la potenza del viva voce come avete sentito il viva voce ha un volume abbastanza alto e non tende a storpiare la voce come tanti dispositivi fanno quindi ottima cosa per quanto riguarda questo device e comunque come dicevo se si ascolta nella capsula auricolare la comunicazione è molto chiara e senza distorsioni volendo concludere questo wikuawei star 4G è un dispositivo che nonostante non sia effettivamente nuovissimo ha quasi 12 mesi di vita diciamo che ha qualcosa ancora da dire soprattutto perché rispetto ai 340 euro di prezzo base con cui era uscito in Italia adesso che lo si trova a circa 290 diciamo che è un buon compromesso per quanto riguarda quello che questo dispositivo offre e quello che normalmente a quel prezzo viene offerto nei negozi italiani quindi un'autonomia discreta prestazioni nella norma per quanto riguarda un dispositivo di questa fascia qualcosa magari da migliorare nella batteria però non vogliamo essere troppo esigenzi è comunque un dispositivo che adesso si trova a 230 euro e quindi diciamo nella media ovviamente però se si vuole essere un pochino più smart nell'acquisto e andare a vedere anche un po' quello che è quello che viene offerto dal web anche al di fuori dell'Europa quindi guardando anche produttori cinesi penso a OnePlus e Xiaomi con cifre molto simili o di poco superiori o anche decisamente inferiori si riesce a comprare dispositivi nuovi decisamente più performanti quindi diciamo che bisogna un attimo scegliere se si vuole andare a comprare questo dispositivo a negozio è un'ottima scelta se invece si pensa e non si ha problemi di acquistare questo dispositivo non so da negozi come Gearbest o quant'altro magari non è proprio una scelta effettivamente smart in ogni caso è un dispositivo che come dicevo ha ancora qualcosa da dire a 12 mesi dal suo lancio direi che quindi abbiamo anche concluso di aver detto tutto quello che c'era a dire su questo wiko away star 4g non mi resta che ricordarvi di mettere un bel mi piace a questo video riscrivervi al canale tecnoscimiati su cui ci state guardando e ovviamente anche di mettere mi piace sulla pagina facebook e seguire il profilo twitter ovviamente anche andare sempre sul sito tecnoscimiati.it un saluto al burgero e al prossimo video ma tu cosa stavi facendo?